ciao a tutti ragazzi e ragazzi benvenuti sul mio canale oggi è martedì quindi come ogni martedì noi le make up angels vi proponiamo un nuovo video per questa volta abbiamo deciso di farvi vedere ci sei o ci fai questa parola cosa vi fa capire vi fa capire che ho i capelli tutti questa parola cosa vi fa capire vi fa capire che molte persone fanno dei make up un po particolari e voglio farvi vedere io ovviamente vi ripeto non sono nessuno voglio farvi capire gli sbagli super giù che vedo spesso qui su youtube ovviamente assieme a me ci sono le altre due make up angels quindi parlo di fabiana ed elisabetta quindi vi metterò il link delle due angels giù nell'info box e ovviamente dopo che vedete il mio video andate subito a vedere i loro video perché sono sicura che vi faranno proprio vedere tutti nei minimi particolari tutti gli sbagli perché loro sono molto più esperte di me quindi sapranno veramente dove ci sono questi sbagli e dove no io vi faccio vedere super giù per quanto riguarda la base perché non vi so dire per gli occhi perché sto ancora imparando quindi non vi so dire gli sbagli perché fino adesso io ho fatto gli occhi più calati e tutto quindi io vi dico andate a vedere i loro video perché sicuramente vi faranno vedere tutti gli sbagli ci sarò anch'io in quegli sbagli sicuro allora per prima cosa mi sono scritto alcuni appunti che vedo super giù in giro la prima cosa sbagliata è il colore del fondotinta allora facciamo finta che io ho messo la crema anzi la mettiamo la crema proprio per far vedere che se uno deve sbagliare deve sbagliare in tutti i sensi io adesso metto la mia crema ovviamente vari passaggi li farò velocizzati così da non farvi annoiare per quanto riguarda per quanto riguarda il video va crema messa allora iniziamo il primo sbaglio che facciamo spesso e mi ci metto anch'io perché all'inizio sbagliavo spesso vi faccio vedere proprio il fondotinta allora oltre che questo fondotinta l'ho comprato quando ancora lavoravo quindi ero molto più scura di come sono adesso e questo è un photo finish di Catrice nella colorazione 020 rose beige allora adesso vi faccio vedere il colore siccome sta per finire io ho scelto un fondotinta che sta proprio per finire allora questo è il colore se lo vedete è leggermente più scuro aspettate che controllo no ancora ce n'è perché non lo riesci a prendere allora aspettate che lo esco direttamente allora cosa faremo faremo un lato più con questo diciamo che non è il mio colore e l'altro lato con il colore che io preferisco allora questo lo metterò con la spugnetta e lo metterò da questo lato ovviamente quando ci si trucca gli sbagli che io vedo spesso è che non sfumano il fondotinta anche nel collo quindi noi ovviamente essendo che stiamo sbagliando non sfumiamo il fondotinta ovviamente lo mettiamo anche sulle sopracciglia e questo è il fondotinta non so se si vede tanta la differenza perché ovviamente essendo anche con con tutte le luci diciamo differenza se ne vede poca e niente cioè se ne vede poca va in poche parole ma vi posso assicurare che la differenza c'è e la noto in caso poi vi farò vedere più da vicino comunque si nota invece da questo lato utilizzerò un se lo trovo me lo sono perso no qua da questo lato utilizzerò il fondotinta di Clinique che mi sta piacendo tantissimo ed è il CN18 quindi lo andremo a mettere questo è un campioncino che io ho e lo andremo a mettere sul viso lo andremo a mettere sul viso e lo sfumerò con il pennello questo qui di Sephora che mi sta piacendo tantissimo e questo fondotinta è molto leggero avete visto già il video dove ne parlo e mi piace perché si uniforma benissimo con il mio incarnato ovviamente lo sfumiamo bene ovviamente dobbiamo stare lontani dalle sopracciglia questo fondo mi piace tantissimo si uniforma bene con il mio incarnato non diventa scuro e ovviamente lo andiamo a sfumare qua sono un po' gialla ovviamente lo andiamo a sfumare al collo perché anche se è lo stesso colore però è giusto non dare lo stacco dovete fare anche le orecchie io di norma tipo con il pennello un po' sporco lo faccio perché di solito non metto mai cerchietti quando esco quindi ho i capelli che mi coprono il viso e quindi non mi interessa molto comunque dobbiamo sfumare bene bene e questa è la parte giusta poi come vedete io di stacco non ne vedo poi l'altra cosa è il correttore andiamo a prendere il correttore allora come correttore alcuni fanno vedere proprio un distacco del colore o troppo chiaro o troppo scuro quindi siccome aiuto io mi sono preparata perché dopo devo fare un altro video mi sono preparata il correttore che di norma utilizzo che è lo 03 perché poi io devo illuminare allora lo sbaglio che fanno è mettere o un correttore troppo scuro o un correttore troppo chiaro io però la volevo mettere chiaro perché spesso vedo questa cosa del correttore chiaro il C3 chiaro devo vedere tutti i condotti di correttore allora metterò questo correttore nella parte chiara che poi sembra troppo sì questo forse è anche uguale non so se si vede così senza sfumato questo è il correttore nella parte sbagliata e poi invece io mi sto sporcando tutto e poi invece siccome ho messo i correttori da questo lato come vi ho detto perché sto sistemando poi invece metto il mio correttore il 103 lo 03 lo 03 lo metto proprio così e lo sfumo poi passo un pochettino col pennello da fondotinta per amalgamarlo bene per far sì di diciamo uniformarsi e unirsi direttamente con il fondotinta con il colore del fondotinta e poi metto un po' di quello più chiaro per evidenziare questa parte e lo metto sempre con il pennello del fondotinta così oltre che non diventa più chiaro ma si uniforma bene ecco vedete non so se si vede la differenza tramite la luce poi andiamo avanti e sempre per quanto riguarda gli sbagli allora adesso metteremo una cipria ma la cipria sinceramente non ne vedo molto non vedo sbagli per quanto riguarda la cipria c'è chi ne mette troppo ovviamente ma quello è un fatto che si nota in alcuni però io per quanto riguarda la cipria non ne vedo troppi troppi sbagli sinceramente perché poi c'è chi mette tipo la cipria come si dice illuminante sotto gli occhi e quello si si vede quella ad esempio è una cosa che si vede tantissimo lo possiamo anche fare mettere una cipria bianca sotto l'occhio fatemi prendere una cipria proprio bianca vediamo questa qua di astra ma questa è buona però questa di astra vabbè io non ho ciprie vabbè facciamo così mettiamo direttamente questa qua e la mettiamo con il pennello ma ovviamente la mettiamo che si vede era questo l'occhio sì sì alcuni fanno notare direttamente la la cipria così che si nota io di solito cosa faccio appoggio tipo il pennello poi tolgo l'eccesso nel pennello e vado a spolverare il mio occhio e il mio viso ovviamente di solito io cosa faccio quando metto il fondotinta automaticamente pulisco le sopracciglia dall'eccesso se c'è il fondotinta e tutto quindi questo lato ovviamente non lo facciamo per quanto riguarda le sopracciglia le vorrei fare anch'io ma vi faccio vedere l'ultima volta come le ho sistemate perché mi devo perdere sempre le cose dove è andato gliel'ho fatto vedere la mia migliore amica ecco qua allora io da questo lato quindi il lato buono metterò il mascara quello per i capelli che vi ho fatto vedere già altre volte che sto utilizzando per sistemare le sopracciglia quindi in una maniera più naturale possibile e immaginabile ecco acqua questa è e ovviamente poi lo andremo a sfumare e alzare un pochettino quindi i peletti qua un po' più alzati e poi qua la discesa poi li dovremo anche pulire però siccome io non li ho fatti le sopracciglia perché li devo fare quindi li lascio così e poi invece vedo molte persone che fanno le sopracciglia del colore sbagliato e fanno anche delle righe nette e poi riempiono le sopracciglia ma che si nota proprio si nota la differenza quindi li faremo che si nota la differenza perché li fanno troppo troppo squadrate tipo così io li vedo infatti per questo io non faccio le sopracciglia perché non sapendole fare io sinceramente preferisco non farle allora queste le sopracciglia che io vedo spesso di alcune ragazze e mi dispiace perché io non li so fare quando io una cosa non la so fare non la faccio proprio perché non voglio fare errori e non voglio sembrare tipo ah ci siamo capiti allora un'altra cosa che vedo spesso è per quanto riguarda il contouring quindi prendiamo una palettina per quanto riguarda il contouring e prendiamo questa qui e prendiamo un pennello e andremo a fare il contouring però un pennello più cicciottello allora in base al pennello quindi prendiamo il colore che ne prendono tantissimo e andiamo a fare il contouring allora molto spesso io vedo questo il fatto che scendono poi vi spiegherò per quello che ho capito io perché ovviamente io non sono nessuno ve lo ripeto vi spiegherò super giù come dovrebbe essere allora questo è il contouring fino qua sotto e fino molto spesso lo vedo fino alla bocca che è una cosa che non si fa quindi poi lo vedo qua non tanto sfumato scendere proprio vicino anche le sopracciglie e poi fino alla bocca per non parlare del naso io ce l'ho grosso ma me lo tengo così allora questo è quello che io vedo questo è quello che io vedo questo queste sono le linee nette che io vedo quando guardo qualcuno che mette il correttore adesso vi faccio vedere come tra virgolette sto imparando io a mettere il correttore per fare il contouring scusate allora io utilizzo un pennello abbastanza grande anzi questo non è molto grande prendo il colore elimino l'eccesso e prendo la mia curvatura per quanto riguarda il il mio viso e sfumo ma mi fermo ad un certo punto non arrivo fino alla bocca come sono arrivata qua mi fermo fino a un certo punto perché devo il contouring serve per valorizzare un po' più lo zigomum quindi fare uno scutting per quanto riguarda il viso e alzare un pochettino quindi prendo il prodotto tolgo l'eccesso e inizio a sfumare fino a un certo punto prendendo anche un po' di stacco quindi avendo un pennello abbastanza ampio potete anche regolarvi nel farlo fate un po' la fronte se siete abbastanza spaziosi ma non arrivate mai al sopracciglio quindi contouring e non dimenticate mai la mascella e questo è per quanto riguarda il contouring andiamo al blush questo è un altro errore che vedo spesso blush pennello normalissimo prendete il colore e lo mettete qua io vedo spesso e vi giuro anche ragazze più piccole di me delle ragazzine con il pomello io li chiamo guarda c'è il pomello io gli dico tipo quando eravamo al mercato e passava qualcuno gli diceva la mia migliore amica guarda quella ha il pomello perché si fanno tipo i pomelli così questo è il pomello e senza sfumarlo perché non lo portano tipo che so spostarsi no io metto il blush gli altri pennelli mi sa che l'ho conservato vabbè metto il blush con un pennello abbastanza ampio tocco il blush al solito poi faccio il finto sorriso e porto il blush fino un po' indietro proprio per far vedere un un sorriso un po' più vedete come si alza le gutte come si alzano i poppastrelli mi fa morire questa cosa quando la vedo mi fa morire i poppastrelli e questo è il blush poi andiamo avanti e parliamo di illuminanti per quanto riguarda gli illuminanti spesso mi stava cadendo la palettina spesso vedo illuminanti messi male però quello mi capita anche a me quindi pace e amen non lo so io ho degli illuminanti tipo particolari come quello di di wicon che loro dicono che è un illuminante ovvio mettere questo sul viso cioè vediamo loro dicono di metterlo sul viso stavo sbagliando lato e sarebbe questo cioè ditemi voi se potete mettere un illuminante del genere sul viso poi in caso lo sfumiamo e questo è l'illuminante invece a me piace ovviamente un illuminante abbastanza soft quindi leggero ma particolare allora prendiamo questo qui di wicon sempre prendo il pennello appoggio il e poi lo metto qui ovviamente scelgo un colore che si abbini al make up che ho che ho scelto diciamo adesso lo stiamo mettendo così tanto per e poi certe volte lo sfumo anche così questo è per quanto riguarda l'illuminante poi andiamo avanti e arriviamo al contorno delle labbra e qui siamo perché vi faccio vedere il contorno delle labbra adesso lo faccio faccio il lato giusto e poi ve lo faccio vedere perché ho bisogno di avvicinarmi tantissimo quindi il rossetto lo metto uguale vediamo se riesco a questo è il rossetto e adesso andiamo a mettere il colore all'interno allora per quanto riguarda quella sbagliata dove è il mio rossetto allora per finire facciamo lo sbaglio lo sbaglio è quando fanno un contouring tra virgolette alle labbra quindi facendole molto più grande e poi mettendo un rossetto chiara all'interno che io adesso sto guardando i video di tiktok c'è una signora che lo fa però allora a me non piace ed è questo invece ovviamente noi qualsiasi rossetto qualsiasi matita noi mettiamo il rossetto deve essere abbinato o perlomeno in tono più chiaro così mezzotono ma che si avvicini molto al colore della matita e questo è il make up questo è quello che tra virgolette vi sto proponendo io per quanto riguarda gli sbagli che vedo spesso fare e sinceramente un po' mi dispiace perché molte persone vederli in certa maniera sono un po' più particolari allora facciamo un resoconto di quello che abbiamo fatto per quanto riguarda questo lato è quello che io preferisco ovviamente come mi trucco io e questo lato invece come vedo spesso uscire alcune persone anzi non so usare le liner perché vi farei la riga direttamente qui all'attaccatura dei capelli ci sono molte persone che fanno questa cosa allora abbiamo detto fondotinta normale del mio colorito e fondotinta più scuro del mio colorito per quanto riguarda la cipria va bene per quanto riguarda il contorno occhi io ho messo un correttore troppo chiaro qui in questo lato e un correttore normale adatto alle mie occhiaie da questo poi abbiamo fatto il contouring e il contouring ovviamente l'abbiamo fatto troppo marcato e siamo scesi troppo da questo lato invece da questo lato siamo arrivati allo zigomo come vedo spesso fare e non siamo scesi la stessa cosa in fronte qui la fronte arriva il contouring arriva direttamente al sopracciglio qui invece no per quanto riguarda il blush io vedo spesso questi pomelli come li chiamo io in giro per strada invece questo è come si sfuma direttamente il blush che prende anche tutto il viso diciamo cioè la parte del blush giusta poi per quanto riguarda gli illuminanti vedo molto spesso queste pataccone fatte così troppo evidenziate che non mi piacciono e questo è come lo metto io bello soft se mettete poi uno spray è molto più particolare si vede non si vede ed è la cosa che mi piace di più per quanto riguarda le sopracciglia ovviamente questa è quella sbagliata perché è troppo definita è troppo marcata invece questa è quella giusta non guardate le mie sopracciglia perché devo andare all'estetista a sistemarle perché ovviamente questa quarantena qualche difetto l'ha fatto quindi per quanto riguarda le sopracciglia poi cosa blush contouring l'abbiamo detto e per quanto riguarda anche il naso io vedo molto spesso queste linee nette anzi il contouring al naso da questo lato non l'abbiamo fatto ma io non lo faccio perché non lo so fare sinceramente non lo so sfumare bene quindi non lo faccio paura in quello e quindi vedo spesso queste scusate queste linee troppo nette che si vedono anche da lontano quindi no grazie e poi le labbra anche per il contouring anche il fatto di non sfumarlo al di sotto comunque e poi le labbra il contorno labbra è abbastanza evidenziato di due centimetri di più del proprio labbra è il colore diverso di rossetto quindi questa cosa è una cosa che non mi piace io vedo spesso anche delle persone con la matita abbastanza scura tipo sul nero no mi prego allora questo è per quanto riguarda la mia proposta ovviamente ma sono tanto ma tanto curiosa di vedere cosa avranno combinato le altre due sicuramente vi faranno proprio vedere tutti i minimi particolari e in quelle cose che vi diranno mi vedo mi rivedo in queste persone perché ovviamente si sbaglia imparando però ovviamente cercate di non fare determinati errori io per quanto riguarda non farò non lo so se vi metterò l'anteprima della foto comunque vediamo io per quanto mi riguarda vi saluto vi mando un bellissimo bacio ovviamente andate a vedere le altre due angels quindi andate a vedere Fabiana e Elisabetta cosa avranno mai combinato loro e niente che dirvi di più ragazzi state attenti non prendetelo sotto gamba il fatto che potete uscire state sempre attenti vi raccomando e niente non vi voglio fare una romanzina e che dirvi di più io vi saluto vi mando un grossissimo bacio e come vi dico sempre se vi è piaciuto il mio video spolliciate e se vi va noi ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao